Una passeggiata per sfuggire alla calura che da qualche giorno a Tanaglia è il capoluogo. Chissà quante volte Tonino Zampieri l'aveva percorso, quel sentiero che conduce al rifugio Settimo Alpini. Ieri sera, poco prima delle 20, mentre con la moglie il cane rientrava da Ponte Mariano, oramai in prossimità di case Bortot, Tonino Zampieri è scivolato in uno dei tratti più esposti ed è volato per 200 metri. La moglie ha allertato il 118, i soccorritori hanno attrezzato la sosta per calarsi alla luce del faro dell'elicottero Pelican giunto da Bolzano. Il corpo senza vita di Zampieri è stato trovato a 150 metri sopra il torrente Ardo. Vegliata tutta la notte dal personale del soccorso alpino, la salma è stata recuperata e trasportata alla camera mortuaria di Belluno questa mattina alle prime luci dell'alba. Tonino Zampieri aveva 65 anni di professione perito industriale, amministrava condomini, ma la montagna, lo sci e la fotografia erano le sue grandi passioni. Con l'amico Luca Maressa aveva creato TL Foto, il logo che ha accompagnato gli scatti ufficiali dell'Hockey Alleghe. Belluno oggi si è svegliata a Tonita. Tonino è un amico, un amico anche perché comunque la passione per lo sci, anche per tutto quello che riguarda il mondo della neve. Ci siamo visti tante volte quando faceva le sue esposizioni. L'ultimo periodo l'ho visto di più perché con il discorso del Museo Salva Sci, ci siamo contattati, io sono appassionato di ski roll, di sci di fondo e gli ho detto guarda Tonino se vuoi hai del materiale di ski roll, te lo posso seguire io. Grande appassionato di montagna, Tonino Zampieri aveva allestito una mostra di sci e slitte storiche unica nel bellonese. La sua ricerca non si era fermata. Ogni singolo sci veniva sistemato, una cura anche maniacale, una cosa che va oltre la passione di avere un qualcosa che viene esposto in maniera tipo museale, era proprio veramente un'affezione. Di Tonino tutti ricordano la vitalità e il suo grande cuore a disposizione anche per il volontariato. Con la sua passione aveva abbracciato tutto l'arco alpino, il suo museo Salva Sci, il sogno che gli amici intendono realizzare. Noi dobbiamo continuare a farlo perché Tonino era il museo delle uscite Salva Sci, era tutto quello che riguarda e per ricordarlo in maniera, diciamo così, di rispetto anche per la persona ma anche per portare avanti la volontà dobbiamo continuare a farlo.